Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Invision of the Brood, un gioco della Peterson Games che io ringrazio di cuore e da morire per avermi offerto questa copia per la recensione e subito faccio presente che è una copia, praticamente la versione finale, infatti anche nella mail c'era scritto e verrà cambiato poco, però prototipo, non la versione diciamo completa al 90%, ed è un gioco che trovate su GameFound nel primo link che vi lascio in descrizione. Quindi sta per partire la campagna Kickstarter e vi lascio, Kickstarter proprio loro, e vi lascio il link in descrizione così potete andarla a vedere. Si parla di una specie di guerra dei mondi, ve ne parlo a breve dopo la sigla. Invision of the Brood, gioco della Peterson Games, è una specie di, la prima cosa che mi viene in mente da pensare, una guerra dei mondi. Ed è un gioco molto interessante perché la storia ci parla di questo sciame che vaga per i sistemi solari e le galassie conquistando, succhiando via risorse e distruggendo i pianeti, appunto una trama già rivista comunque lato sci-fi o fantastico, dove è arrivata una nave aliena di dimensioni disumanamente grandi nel nostro sistema solare e vedendo che la Terra è abitata e ci sono molte risorse, ha soprattutto ben pensato di costruirsi una base nel lato oscuro della Luna, quindi quello che non si vede mai, così da essere proprio nascosta agli occhi anche di radar o comunque possibili sguardi da parte dell'intelligence, delle forze della Terra. L'ambientazione non è tanto avanti rispetto a dove stiamo vivendo, quindi questa Broodmother o comunque questo sciame alieno sono lì che stanno lanciando un attacco alla Terra per conquistarla e appunto assoggettarci al loro potere per poi distruggerci il pianeta risucchiandoci via tutte le risorse. Ed è bellino come gioco perché lo scopo principale vostro è quello di destare in maniera politica e di alleante, soprattutto, tutte le principali forze del pianeta Terra, metterle insieme per costruire il razzo Orion, che è la cosa secondo me più bellina della trovata che hanno fatto perché non ci sono flotte stellari né niente. Ve l'ho detto, siamo poco avanti come se capitasse nei giorni nostri. Quindi l'unica maniera che abbiamo per distruggere la base aliena, una volta identificata che nel lato oscuro della Luna, è quello di costruire questo razzo Orion gigantesco che praticamente al suo interno ha un potere esplosivo con tutte le testate nucleari della Terra, cioè tipo 1000-2000 testate nucleari, che voi dovete riuscire a convogliare il loro potenziale e sparare questo razzo e al momento che sarà sparata andrà a colpire la base aliena dietro la parte oscura della Luna e la missione sarà vinta. Ed è interessante perché fra le varie azioni che si possono fare bisogna destare i governi nazionali per invitarli a cooperare e collaborare a fare fronte comune, insomma, perché ci riguarda tutti quanti. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing, confezione del gioco di medie dimensioni, abbastanza larga perché, insomma, c'è un po' di contenuto all'interno e vedete anche il disegno, veramente molto bello, e vediamo questa mente aliena sopra la Terra come pronto lì a conquistarci e invaderci. Apriamo. Regolamento di gioco, guida all'invasione, che è veramente semplice e poi ci sono tanti esempi. Mi guarda anche il tipo di font come l'hanno scritto, mi ricorda un po' Mother, il computer dell'anostromo di Alien. E vedete c'è la mappa del mondo con tutte quante le schede delle nazioni e poi tutti quanti i token e i simbolini che vanno a rappresentare le truppe o tipo il potere della mente globale aliena quando vi va a conquistare truppe di terra, truppe di mare, insomma, vi va a mettere i bastoni fra le ruote e a rigirarvi contro il vostro potenziale. E qua giù ci fa vedere il classico token di una truppa tipo un'armata di terra dei terrestri con un valore di attacco, un valore di difesa e un valore di movimento. Stessa cosa, ad esempio, per gli alieni. Questo qui è un adulto, lo step successivo alla larva, che ha un valore di attacco di 3, di difesa di 3 e si muove di 0. Quindi questo, dove viene messo, rimane, non si possono muovere. Il regolamento è molto semplice. Le truppe di partenza che hanno e soprattutto anche per il lato diplomatico che hanno con le altre nazioni. Quindi magari l'America è avvantaggiata con l'Europa in certi tipi di azioni diplomatiche, anche per risvegliare o averli neutrali o alleati, magari potrebbe avere un valore più basso col Giappone e altre nazioni. La mappa del mondo, che ora poi vi faccio vedere aperta. E tutti quanti i token che poi fondamentalmente sono quelli che vanno a rappresentare tutte quante le truppe, vedete, con le bandiere delle nazioni. Da una nazione ad un'altra possono cambiare anche i valori, non sono tutti uguali. Magari qualcuno ha una flotta navale migliore, qualcuno ha delle truppe di terra. E poi tutti quanti i simboli che vanno a identificare il giocatore che muove gli alieni per quando vi corromperanno le truppe. Vi faccio vedere un po' come funziona. Invenson of the Brood è un gioco per soli due giocatori. Non so se più avanti faranno altre espansioni, magari stretch goal, metto le mani avanti, non lo so. Però per ore due giocatori. Uno fa la parte dell'alieno e uno fa la parte dei terrestri. Quello che fa la parte dell'alieno nelle mosse che può fare ha quello di conquistare e costruire comunque delle fabbriche sulla terra dove praticamente questo sciame di worker, ricorda un po' anche Starship Troopers, dovranno andare lì per generare nuove larve. Larve che poi si potranno evolvere in alieni e gli alieni che si potranno evolvere in Broodlord. Quindi creature ancora più forti di un semplice worker, di un drone per farvi capire. E la cosa bella che fa il giocatore, gioca quello che fa il Broodlord, l'alieno, gioca comunque a viso aperto, a carte scoperte davanti a tutti perché il suo potere principale, una volta per turno, ma a volte anche qualcosina di più, è quella di evolvere i suoi alieni da larva, ve l'ho detto a worker, a soldate e tutto quanto, ma soprattutto di fare il lavaggio del cervello alle truppe terrestri e conquistarle. Quindi magari col potere mentale telepatico può bloccarti una flotta di caccia, ad esempio una flotta aerea, una squadriglia, oppure ti può bloccare una flotta navale, oppure dei cararmati per un'armata di terra comprensiva di fanteria e te li rigira contro. Quindi magari se ti stai facendo affidamento su una truppa messa, che ne so, in Giappone per darti una mano, lui te la potrebbe bloccare e te la potrebbe usare per bombardarti. Ed è veramente interessante perché non sai mai dove questa mente aliena andrà praticamente a rapirti la mente delle tue truppe per girartele contro. Ed è, te rigira contro il potenziale distruttivo. Ed è veramente interessante. Dall'altra parte il giocatore invece che gioca alle Nazioni Unite, le chiamo così, le deve unire lui comunque ai terrestri, dovrà fare il possibile per unirle. Perché inizialmente lui dovrà scegliere una nazione fra le principali, che sono, va bene, America, l'Europa, la Cina, ad esempio il Giappone, la Russia e molte altre. Comunque ce ne sono anche nel pacchettino o nel gioco di base. Lui dovrà scegliere se ne una, quindi magari con gli Stati Uniti d'America parte da là, con il Giappone parte dalle isole del Giappone, e dovrà con le sue forze di base andare negli altri paesi dove ha tre scelte. Uno, provare la carriera diplomatica, la via diplomatica per fargli capire che c'è un problema. Due, far una specie di attacco, attaccare con la Nazione, non far scoppiare una guerra, ma per far capire, andare a combattere nel suo panorama per fargli capire che c'è qualcosa che ci sta distruggendo. Quindi una specie di invasione per i beni di tutti. E soprattutto anche altre alleanze, perché in questo gioco tutte le Nazioni di base sono, tra mille virgolette, dormienti. All'inizio non sanno di quello che sta per succedere, lo sapete solo voi, e quindi sono dormienti. Potrebbero diventare alleate più avanti, oppure diventarvi nemiche, a seconda delle azioni che farete. Ma soprattutto queste flotte nemiche potrebbero anche intercettarvi, attaccarvi, perché magari pensano che tutto quello che state facendo non è vero e ve lo state un po' inventando. Oppure, dall'altra parte, lo sciama alieno, il giocatore che muove gli alieni, potrebbe, che ne so, nel mar Mediterraneo, prendere una flotta che, fino a poco fa era vostra alleata, voi spostate delle truppe o qualcosa e ve la attacca e ve la affonda. Perché comunque lo può fare, facendo lavaggio del cervello e rigirandovi contro il vostro stesso potenziale distruttivo. Ciascuna truppa ha tre valori, che sono un valore di attacco, un valore di difesa e un valore di movimento. Ad esempio, se una truppa ha 3-3-2, vuol dire che ha un valore di attacco di 3 e si tira il dado, un valore di difesa di 3 e un valore di movimento di 2 e si muove di due zone. Quindi, quando tiro un dado, devo sempre fare uguale o meno del valore che ci ho scritto. Stessa cosa per difendermi. Se io colpisco e te colpisci, io non difendo e te non difendi, ci distruggiamo a vicenda. Se io colpisco e te colpisci, colpiamo tutte e due, solo che te non difendi e io difendo, io distrutto te e vado avanti. È molto facile come funzionamento di gioco. E, bene o male, le regole sono tutte qua. Il vostro scopo principale? Avete una base in Antartide, dove voi dovrete prendere e costruire con tutte le risorse della Terra, per quello che avete bisogno di altre nazioni, non potete giocare come nazione singola, per prendere tutto questo potenziale atomico, nucleare e distruttivo, convogliarlo in questo missile, che è il missile Orion, e una volta che avrete questo potenziale dovete portare tutto nell'unica base possibile, che è in Antartide, e spararlo verso il lato oscuro della Luna per colpire la base del nemico alieno e distruggerla completamente come mente collettiva. Una volta distrutta la base, tutte le creature e le larve sulla Terra moriranno. Quindi è veramente, veramente interessante. In conclusione, è un gioco per tutti. È un gioco molto facile, quindi non vi fate mettere paura, troppe regole, troppi segnalini. Il gioco è veramente molto facile e tra l'altro nelle plancette che abbiamo c'è scritto praticamente tutte le azioni che possiamo fare. Sì, forse è il classico gioco che a differenza di altre ha bisogno di una partitina per farsi un po' un'idea del panorama, però comunque è un gioco veramente molto semplice e se avete già giocato, mi viene in mente, della Pendragon alla Guerra dei Mondi, praticamente c'è poco in più da imparare. È veramente molto interessante. Vi ricordo, se lo volete ordinare sulla campagna Kickstarter loro, della Peterson Games, trovate il primo link in descrizione con la campagna GameFound. Andate a darci un'occhiata perché, secondo me, è un titolo veramente interessante. Ribadisco, quella qui davanti che avete visto in questo video è un prototipo. Quasi finito, però un prototipo. Che ne so che invece dei token nel possibile Kickstarter come Stretch Goal potrebbero mettere, dico a caso, non l'ho ancora visto, il GameFound. Magari delle miniature o dei segnalini vari. Ragazzi, è molto interessante come gioco ed è molto tattico. Non si gioca in tanti, si gioca due, faccia a faccia. Uno gioca a carte scoperte e uno invece gioca un po' e un po' per cercare di prendersi tutte le nazioni e di fare l'attacco. Quindi è veramente molto interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio la Peterson Games e ci vediamo al prossimo video.